La vita dei tuoi sogni? Cosa devi sapere per realizzarla concretamente? Qual è la differenza tra sognare e creare una realtà da sogno? Ciao sono Patrizia Setteeducati e oggi ho aiutato centinaia di persone che sanno di poter essere di più ma si sentono insoddisfatte e bloccate in una vita che non gli appartiene a seguire il percorso della loro anima per creare e realizzare e vivere la vita straordinaria e piena di significato che desiderano. Molte persone che incontro mi dicono vorrei una vita diversa piena di significato magari vorrei realizzarmi o realizzare i miei sogni ma o non sanno cosa fare o sanno cosa fare ma non sanno come farlo e se sanno come farlo magari non sono disposti a fare ciò che è necessario. Pensano che tutto accada come per magia ma una casa migliore, una relazione migliore, un lavoro migliore e magari realizzare un progetto non so un progetto umanitario, un progetto che senti dentro. Non accade da solo. I sogni rendono sicuramente la tua vita magica ma non devono solo essere sognati, devono essere realizzati, devi fare ciò che è necessario proprio per realizzarli, non ciò che è comodo. Va bene meditare ma se mediti solamente, se speri solamente, se utilizzi solo la legge dell'attrazione senza muoverti, qualsiasi magia tu pensi di poter fare attraverso il pensiero o veramente ti sei illuminato e hai imparato a gestire così bene la materia? Altrimenti se continui a fare l'orsacchiotto di peluche sul tuo divano nulla accadrà. Semplicemente continuerai a rimandare, a rimandare, a rimandare magari all'infinito, magari per sempre creando semplicemente dei rimpianti nella tua vita. Se non fai nulla per realizzare i tuoi sogni rimarranno solo delle fughe inutili che creeranno solo della frustrazione nella tua vita oppure potranno essere dei capricci del tuo ego che è insoddisfatto, spaventato, bisognoso di colmare quel vuoto interiore, di non sentire quelle ferite, di non sentire quel dolore che in qualche modo si risveglia perché la tua anima sta cercando di farti capire che quello che stai vivendo, che stai facendo non va bene per te, allora a quel punto saranno assolutamente inutili. Per rendere la tua vita migliore non basta sognare ma bisogna agire per realizzare i tuoi sogni. proprio come stanno facendo i miei allievi dei percorsi intensivi. Loro imparano a muoversi in modo concreto, imparano a muoversi per realizzare i loro sogni, imparano a muoversi per seguire la loro anima e fare ciò che è necessario. Perché ad esempio, ti faccio un esempio, no? C'è Silvana, ad esempio che quando l'ho conosciuta, era una donna in carriera, ha lavorato per tipo 25 anni nella stessa azienda, ha lavorato nel personale, teneva corsi all'interno dell'azienda, insomma aveva un ruolo di grande responsabilità, ma si sentiva schiacciata da questo lavoro, praticamente si sentiva in un albergo quando tornava a casa perché ci stava pochissimo, era sempre al lavoro, sempre al lavoro, sempre al lavoro e soprattutto stava facendo un lavoro che le stava ciucciando l'anima. Quando abbiamo lavorato insieme, ha iniziato a seguire quello che la sua anima le stava comunicando e allora cosa ha fatto? Ha agito, ha sentito che quello non era più il suo cammino, ha lasciato concretamente il suo lavoro per dedicarsi a ciò che la sua anima le stava indicando, ossia ha trovato un modo per fare dei trattamenti e per aiutare le persone e adesso sta portando avanti quel cammino. Non si è mai sentita così felice nella sua vita, ha trovato una dimensione dove lei si sente se stessa, si sente bene, si sente appagata. È logico che quando c'è un cambiamento che ti porta verso una vita diversa, ci sono delle paure che vanno sbloccate, ma sbloccare queste paure è qualcosa di assolutamente possibile. Io ho visto tante persone, io stessa quando mi sono trovata in un cambiamento forte nella mia vita, non so se lo sai ma io mi occupavo di moda, ero una stilista fermata, lavoravo in varie parti in Europa, avevo anche lavorato in aziende fuori dall'Europa, ma quando mi sono trovata di fronte a un cambiamento anch'io ho avuto paura. Lavorando su quelle paure chiunque può andare oltre e può permettersi di fare questo cambiamento. Quindi se vuoi una realtà da sogno devi agire, devi agire concretamente. Se hai paura, hai delle resistenze, è assolutamente normale, ci devi lavorare, semplicemente questo, non devi fermarti perché altrimenti i tuoi sogni rimarranno solo, esclusivamente dei sogni e saranno inutili, anzi creeranno frustrazione nella tua vita. Ma tu vuoi sognare per migliorare la tua vita, non per peggiorarla, vero? Spero bene. Quindi anche se tu sei in contatto col mondo spirituale e chiedi aiuto alle tue guide, anche lì devi agire perché le tue guide non è che realizzano i tuoi sogni per te. Il primo passo è sempre tuo e magari anche il secondo, magari anche il terzo. Ti aiuteranno ma solo se agirai. Tieni conto che le cozze realizzano sogni da cozza. Non vuoi fare la cozza e realizzare sogni da cozza, immagino. Ok? Quindi sei disposto a fare ciò che è necessario per creare una realtà da sogno? Facciamo un gioco, qualcosa di concreto, come piace a me. Quindi adesso scegli un sogno, ma che sia un sogno concreto, mi raccomando, grande quanto vuoi, meraviglioso quanto vuoi, ma che sia qualcosa di realizzabile, ossia qualcosa, prima di tutto che dipende da te. Quindi se tu dici voglio trovare l'uomo dei miei sogni, la donna dei miei sogni, non dipende solo da te. Per creare una situazione del genere bisogna essere in due. Quindi questa cosa io la escluderei. Seconda cosa, deve essere qualcosa di realizzabile. Se tu mi dici voglio volare senza aereo, senza baracadute, senza deltaplano, senza parapendio, eccetera, 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 io ti dico magari questo non è un sogno realizzabile secondo le nostre conoscenze delle leggi della fisica. Quindi mi raccomando che sia qualcosa di concreto. Tieni anche conto che quando uno sceglie dei sogni non realizzabili, che cosa sta facendo? Intanto sta andando incontro ad un flop, perché comunque se è qualcosa di non realizzabile o veramente accade una magia, arriva la fata turchina, ti tocca con la sua bacchetta magica e il tuo sogno si realizza così come accade nelle favole, altrimenti non si realizzerà in più. Se è qualcosa basato sulla speranza e va bene la canzoncina di Cenerentola, i sogni sono desideri chiusi in fondo al cuore, ma se poi non facciamo qualcosa, se Cenerentola non fosse andata al ballo, il principe non l'avrebbe assolutamente incontrato. Quindi lascia perdere la speranza. Fai qualcosa che sia utile, realizzabile e concreto. Se tu scegli sempre dei sogni irrealizzabili, questa potrebbe essere anche una scusa per non muoversi, per non agire. Ma tanto irrealizzabile, a livello inconscio tu pensi, beh è inutile che io mi muova per fare qualcosa in quella direzione. Chiaro? Quindi scegliamo qualcosa di concretamente realizzabile. Grandioso quanto vuoi, io adoro solo i sogni in grande, perché i sogni piccoli ti chiedono solo un sacco di energia e ti danno un ritorno bassissimo. Quindi scegli qualcosa di grande, ma tangibile. Ok? L'hai scelto? Molto bene. Adesso scegli un'azione concreta, concreta che puoi mettere in atto subito. Subito, subito, no? Fra un mese la puoi programmare da qui all'eternità. Un'azione anche piccola, ma che sia concreta. Scelta? Bene. Realizza la falla, mettila in atto entro 24 ore. Se è una cosa che proprio non puoi fare entro 24 ore, cambia azione. Meglio fare una cosa che veramente puoi realizzare entro 24 ore. Quando hai realizzato quest'azione, programma quella successiva, per il giorno dopo magari, o subito, o per subito anche. Pianifica quella successiva, realizzala e pianifica quella dopo. Quindi pianifica la tua terza azione. Realizza la tua terza azione, pianifica la quarta. Questa. Realizza la quarta, pianifica la quinta. E così via. Ok? Si tratta di mettere in moto un qualcosa che ti permetta di fare delle azioni, di compiere delle azioni concrete nella direzione di un tuo sogno. Inizia da uno e poi penserai agli altri. Ma inizia da uno, perché se ti metti a lavorare su 20 sogni contemporaneamente, se finora non lo hai mai fatto, diventa un carico troppo pesante. Inizierai benissimo. I primi due o tre giorni, se ti va bene, andranno alla grande e poi scenderà l'energia e non lo farai più. Quindi mi raccomando, fai tutto questo e fammi sapere come va. E se vuoi davvero una realtà da sogno, sei pronto ad agire, a fare ciò che è necessario. Ma pensi di non farcela da sola? Magari ti senti bloccato, senti che ti sei sabotato. Magari sei fermo da tanto tempo perché non riesci ad andare oltre. Sappi che si sono aperte le selezioni per i sette posti disponibili del mio percorso intensivo avanzato vita straordinaria. Questa è l'edizione di luglio ed è l'ultima prima dell'edizione di metà fine settembre. Quindi se vuoi approfittare della pausa estiva, almeno per la maggior parte delle persone che magari hanno un periodo più tranquillo in estate, per iniziare con grande energia il nuovo anno, questa potrebbe essere l'occasione perfetta per te. Cos'è il percorso intensivo avanzato vita straordinaria? Beh, intanto è un percorso di nove mesi. Sì, nove mesi perché stiamo parlando di vita straordinaria, non vita un po' meglio di quella che già stai vivendo, dove aiuto le persone che hanno la sensazione di sprecare la loro vita, di non realizzarsi, di vivere una vita prima di significato, a seguire il cammino della loro anima e a vivere la vita che hanno sempre sognato. E per te se, indipendentemente dai risultati che hai raggiunto finora, senti di essere di più e ti senti incastrato in una vita che non ti appartiene. Perché il percorso vita straordinaria è diverso? Perché ti fa ritrovare l'entusiasmo di alzarti al mattino pieno di gioia di vivere, pieno di vita, perché sai che anche oggi farai ciò che è necessario per riempire la tua vita di entusiasmo, di significato, perché sai che stai seguendo il percorso e le indicazioni della tua anima. Se sei stufo di vivere una vita ordinaria e di sentire quel vuoto interiore, sappi che ti servono tre cose che ho inserito nel percorso. La prima è sentirti libero di essere te stesso, imparare ad amarti per quello che sei veramente, in modo da poter fare le scelte giuste per te, non quelle che gli altri hanno sognato che tu facessi. E in questo modo potrai vivere la vita dei tuoi sogni, potrai liberarti dai blocchi, dalle paure, dai condizionamenti e da tutto ciò che ti fa sentire che non puoi fare altro, oppure che devi fare alcune cose. Tutti quei blocchi che non riesci a superare da solo. Smetterai di sentirti sbagliato perché non riesci a vivere la vita che vivono tutti gli altri. La seconda cosa di cui hai bisogno, che è molto importante, è innalzare la qualità e il livello dei tuoi sogni, in modo da riuscire a desiderare e a realizzare dei sogni che prima erano molto lontani dal tuo immaginario. Prima potevi pensare di realizzare qualcosa che tu conoscevi attraverso la tua esperienza, attraverso l'esperienza delle persone che conosci, ma in qualche modo sentivi che questo non ti bastava. Infatti la cosa importante è andare a sbloccare, cosa che faremo insieme, la tua visione, per dare proprio un nuovo significato alla tua vita. Ricomincerai a sognare e a realizzare quei sogni, come ad esempio ha fatto Cristiana. Cristiana l'ho conosciuta alcuni anni fa, quando l'ho conosciuta aveva 44 anni, aveva una carriera molto avviata. Lavorava in un'azienda di Torino, nelle risorse umane. lavorava nelle risorse umane e aveva una posizione di grande rilievo. Lei conosceva quattro lingue, lavorava in vari paesi d'Europa, in questa azienda. Insomma faceva un lavoro molto importante. Era assolutamente assorbita dal suo lavoro ed era un lavoro che non le faceva sentire il significato della sua esistenza. Sentiva che stava vivendo per gli altri e non per sé. Dopo alcuni mesi in cui abbiamo lavorato insieme, sono successe un sacco di cose. Intanto è andata a vivere in Africa, a lavorare per medici senza frontiere. Era ingrassata tantissimo prima di fare questo percorso e ha perso il peso in eccesso, perché non aveva più bisogno di proteggersi. Finalmente si è sentita a casa, si è sentita realizzata e ha trovato il suo posto nel mondo. Un'altra delle cose che può accadere proprio quando ricominci a sognare è sbloccare i tuoi talenti. Alcune persone si cominciano a rivelare alcuni talenti, come ad esempio artistici. Magari alcune persone scoprono di avere dei talenti musicali. Anni e anni fa ho conosciuto Emiliano Toso. Quando l'ho conosciuto eravamo nel backstage di un evento e stavamo parlando. Lui mi ha rivelato proprio che aveva questo sogno, questo sogno di iniziare a suonare. Lui allora si occupava ancora di un... non so cosa facesse, non mi ricordo bene, non mi ricordo se faceva qualcosa di scientifico o di informatico. Comunque faceva un lavoro completamente diverso. E a un certo punto ha cominciato a sentire questo richiamo, a suonare il pianoforte e sentiva questa musica che poteva curare i cuori che arrivava. E io gli ho detto guarda Emiliano se tu lo senti dentro sarà il tuo cammino e sicuramente ce la farai. Si possono realizzare grandissime cose quando senti la tua anima che ti chiama. La terza cosa che è fondamentale se vuoi una vita straordinaria è la capacità di creare e di far accadere le cose. A questo punto avrai ripulito blocchi, paure che ti impedivano di seguire il cammino della tua anima. E ti sarai riconnesso proprio con la tua essenza divina, con l'universo e sentirai proprio una guida, una guida interiore. Ti sentirai guidato e sicuro nel fare le tue scelte. Sarai nel flusso della vita, saprai ciò che è perfetto per te, ciò che va bene per te, ciò che è importante per te e saprai realizzare il motivo per cui tu hai scelto di incarnarti. Tutte queste cose sono accadute a centinaia di persone con cui ho lavorato su queste tematiche. Questo è il tipo di risultati che ti interessa ottenere? Se la tua risposta è sì e sei veramente pronto a fare ciò che è necessario per realizzare la tua vita straordinaria, puoi prenotare la tua chiamata di svolta a info.divineconnection.one e se vedremo che posso aiutarti ti dirò quali saranno i passi successivi e cosa fare. Ti mando un abbraccio di luce e ti auguro una vita veramente meravigliosa e straordinaria. Ciao, a presto!